La gioielleria Brescia, con sede in Viaggiolitti 12 a Pianezza, svolge l'attività da 30 anni con serietà verso i propri clienti, instaurando un rapporto amichevole e di fiducia, cercando di soddisfarli e consigliarli al meglio nelle loro scelte. Trattiamo marchi di gioielleria come BBG, Comete, Enrico Terzano, 1AR, Diva Gioielli e Art Linea. Inoltre oggettistica come Ottaviani, H e orologeria come Lorenz, Festina e Casio. Grandi marche come la nostra storia. E la storia non si crea, si forma. Il nostro segreto? La vostra fiducia.